La terapia dei linfomi, in questo caso mi soffermerei soprattutto sui linfomi non-Hochkin, perché è quella che negli ultimi anni abbiamo sicuramente avuto evidenza di nuovi approcci terapeutici e si possono dividere a grandi linee nei linfomi diffusi a grandi cellule, che sono il 40% di tutti gli linfomi non-Hochkin e gli linfomi indolenti, follicolari, che rappresentano il 30%. Gli linfomi diffusi a grandi cellule della prima linea è quella classica, la chemio-immunoterapia, come anche negli linfomi follicolari. La seconda linea degli linfomi diffusi a grandi cellule non è ancora arrivata in Italia, ma ci sono due prodotti di CAR-T che si potranno utilizzare in seconda linea. Questo, nell'ambito di due studi, i prospetti si erano demonizzati, hanno dimostrato che le CAR-T in seconda linea sono migliori come risultati rispetto alla vecchia seconda linea, che era una terapia di chemio-immunoterapia diversa dalla prima, più il consolidamento col trapianto autologo. Quindi cade il discorso del consolidamento col trapianto autologo midollare, che è quasi come una caduta del muro di Berlino dal punto di vista dell'ematologo. La terza linea, insieme per i diffusi a grandi cellule, rimane aperta di nuovo la possibilità delle CAR-T con tre prodotti, ma anche la possibilità di usare almeno due nuovi bispecifici, anticorpi bispecifici, e ci sono altri anticorpi, drug-coniugated, come può essere pola, pendamostina rituxima, o anche uno schema con un anticorpio ingegnerizzato, che è la tafasitma più la lena lenomida, quindi i regimi di chemo-free. Ma abbiamo alle porte già studi di fase 1-2 di anticorpi non più bispecifici, ma trispecifici e tetraspecifici. Quindi, e anche le CAR-T stanno migliorando, perché avremo delle CAR-T che saranno prodotte non più in 10-12 giorni, come adesso, ma solo in 2-3 giorni. Quindi queste riducono lo spazio, l'intervallo in cui dobbiamo aspettare la reinfusione dei linfociti. Per il linfoma in follicolare la situazione è molto simile. Prima linea, come dicevo, chemo-immunoterapia. In seconda linea, di nuovo, si possono usare farmaci di chemo-immunoterapia o una seconda linea chemo-free, come può essere rituxina più l'enalino-mide. Ma avremo l'indicazione in Italia, nel giro di pochi mesi, di due prodotti di CAR-T in terza linea e di un bispecifico molto efficace dalla terza linea anche per il linfoma follicolare. Quindi si sta aprendo molto il mondo anche nell'ambito dei linfomi indolenti come il follicolare, perché sarà presentato al prossimo congresso mondiale sui linfomi alugano, un fase 2 in cui si utilizza le CAR-T in seconda linea dei linfomi follicolari e quindi questo aiuterà moltissimo i pazienti nell'ottenere la miglior risposta già in seconda linea.